Eccoci qua nel Brunei, volevo prendere una maglietta come souvenir, ce ne sono veramente di bellissime, particolari, come voi saprete il Brunei proprio letteralmente tradotto è il Regno della Pace, eccoci qua, ecco la cosa stranissima, hanno lasciato il cartello, praticamente sono andati, hanno scritto che sono andati al bagno, ecco, qui si può pagare anche con moneta, con la propria moneta per cui euro, sono accettati, soldi cinesi, giapponesi accettano qualsiasi valuta, bellissimo, ok ci sentiamo dopo, appena apre prenderò qualche souvenir così da omaggiare agli amici, è una bellissima t-shirt come ricordo, ciao a tutti!